Sono aperte le iscrizioni alla scuola di teatro di Spazio 3. Le materie di insegnamento sono audizione, recitazione, training, educazione del corpo, improvvisazione, interpretazione e studio del personaggio. Sono previsti corsi pomeridiani a partire dai 16 anni, corsi serali per adulti e corsi per ragazzi. Spazio 3 è la prima scuola di teatro in Abruzzo e ha formato alla professione molti attori. I nostri corsi sono rivolti anche al mondo della scuola, delle professioni e per chi vuole liberare il proprio talento ad un'età.